La Casa del Popolo di Teramo, dopo la spesa solidale, lancia il progetto di solidarietà Befana Popolare, rivolto ai tanti bambini e alle tante bambine di famiglie in difficoltà, a cui si potrà donare un sorriso con dei doni. In vista dell'epifania, l'associazione in questi giorni sta raccogliendo giocattoli nuovi, libri per l'infanzia e dolci, da poter donare ai bambini delle famiglie precarie terramane e delle strutture che si occupano di minori. Torna la Befana Popolare, un'iniziativa organizzata dalla Casa del Popolo di Teramo, un'iniziativa rivolta ai più piccoli, che vive nell'edizione dello scorso anno i nostri spazi di riempirsi di giocattoli, calze, libri e dolci, che furono poi consegnati ai bambini benefortunati delle strutture che si occupano di minori. Vogliamo quest'anno bissare il bel risultato dello scorso anno e ci rivolgiamo a tutti quanti i terramani, vi chiediamo di raggiungerci nei nostri spazi siti in Via Nazario Saura numero 52, oggi, domani e dopodomani, e di portare appunto una calza, un giocattolo, un libro, un dolce, che poi noi per voi consegneremo ai circa 150 bambini che abbiamo individuato. Vi garantiamo nei nostri spazi rispetto a tutte le norme di prevenzione, come giusto che sia. In questo periodo così delicato sappiamo che soltanto la solidarietà può essere uno strumento per superare questa crisi senza precedenti, e quindi cerchiamo di stringerci tutti quanti intorno e di portare anche a questi bambini, al femmine, fortunati, un sorriso.